desidera Buonasera a tutti. È stato molto interessante vedere diversi talk parlare del futuro, dell'healthcare, dell'intelligenza artificiale di uno scenario che é già qui oggi. Ma come può l'intelligenza artificiale aiutarci a costruire il mondo che vogliamo, un mondo migliore e come può aiutarci a rispondere a quelli che sono i nostri bisogni, i nostri bisogni umani. In Italia quasi il 10% di persone hanno dei dispositivi connessi, dispositivi che possono registrare una grande serie di dati su quello che facciamo, attività fisica o anche parametri come la frequenza cardiaca, l'ossigenazione del sangue e questi potrebbero essere un grandissimo aiuto nell'ambito healthcare, ma vorrei farvi una domanda, quanti di noi, quanti di voi, quanti di noi sarebbero disposti ad affidarsi completamente ad uno di questi device magari aiutato da un modello, da un algoritmo sostituendo quello che è un medico in carne e ossa. Qualcuno lo farebbe? Non vedo molte mani alzate, diciamo non molti, veramente c'è ancora quindi qualcosa che manca per poterci fidare completamente di algoritmi, modelli di questo tipo. Stiamo vivendo in un mondo che è in rapidissima evoluzione, l'abbiamo visto in tutti gli talk che abbiamo sentito fino adesso. Basti pensare che da un lato abbiamo una quantità di dati che raccogliamo quotidianamente sempre maggiore, basti pensare che dal momento in cui ho iniziato a parlare, poco più di un minuto, sono state inviate oltre 300 milioni di mail nel mondo. Dall'altro abbiamo dei modelli di intelligenza artificiale sempre più complessi, sempre più evoluti. Per chi segue il campo praticamente ogni giorno esce un nuovo tipo di modello che riesce a fare nuove cose, cose diverse, a risolvere problemi più complessi e questo porta a un cambiamento in tutti gli ambiti della vita e sicuramente anche nell'ambito health care, tanto che scenari che fino a poco tempo fa sembravano fantascienza adesso è qualcosa di possibile, come la possibilità di avere delle cure personalizzate, l'abbiamo visto anche citato prima in alcuni casi, grazie anche all'utilizzo e allo sfruttamento dei dati che raccogliamo ogni giorno nel mondo reale. Ma siamo pronti a fidarci fino in fondo dell'intelligenza artificiale? Non completamente, da quello che abbiamo visto diciamo pochi secondi fa, anche dal piccolo sondaggio che abbiamo fatto insieme. Non completamente nel momento in cui lo viviamo come qualcosa di sostitutivo dell'umano, di sostitutivo anche di quella che è l'esperienza, che è il contesto che solo l'esperienza umana può fornirci. Addirittura alcuni ricercatori in ambito intelligenza artificiale hanno gridato, diciamo, hanno lanciato un grido di allarme sui rischi che anche l'intelligenza artificiale potrebbe porre. E quindi dovremmo fermare la ricerca come qualcuno ha proposto? Probabilmente no. Proviamo a vedere un ambito concreto. In Italia circa il 40% delle persone, 40%, soffre di malattie croniche e sono di fronte a grandissime difficoltà. Abbiamo visto all'inizio, anche al di là dei problemi anche di quelli del Servizio Sanitario Nazionale, anche il tema che questi pazienti, queste persone hanno difficoltà ad avere una diagnosi tempestiva, spesso, hanno difficoltà ad accedere a piani di cura personalizzati e hanno anche difficoltà dovute al fatto che un certo tipo di malattie richiede visite frequenti, quindi contatti frequenti con medici, specialisti e questo si traduce automaticamente in grosse problematiche. Può l'intelligenza artificiale aiutarci a superare alcuni di questi problemi, a mitigare alcuni di questi problemi? Proviamo a immaginare, abbiamo parlato prima di device connessi, proviamo a immaginare un device di questo tipo che è in grado di raccogliere una grande quantità di dati sui nostri parametri fisici, sull'attività che facciamo, al tempo stesso che si è in grado di somministrare dei questionari ai pazienti, in modo da capire meglio che tipi di sintomi soffrono, quali sono i sintomi che emergono all'interno della loro giornata. E ipotizziamo che questo device, questo stesso device, sia in grado di fornire dei feedback, analizzando i dati, vedendo questi questionari, i risultati, li elabori con dei modelli intelligenti e fornisco un feedback per suggerire come dovrebbero essere trattati, in modo che questi sintomi non peggiorino. E magari questo stesso device possa fornire i dati anche a uno specialista, a un medico, insieme al feedback che ha dato, in modo che questo possa essere monitorato e validato da un medico. Uno specialista che magari è riuscito anche a fare una diagnosi tempestiva grazie ad un altro modello, che sfruttando tutti i dati che aveva a disposizione è in grado di riconoscere più facilmente l'insorgere di una malattia o la presenza di una malattia. Ecco, questo è il futuro dell'intelligenza artificiale, non è qualcosa di scollegato dall'esperienza umana, qualcosa di disumanizzante, qualcosa che governerà il mondo da solo. Noi la vediamo così, il futuro dell'intelligenza artificiale, come qualcosa che quindi possa aiutare, possa supportare, aumentare quelle che sono le nostre capacità e darci degli strumenti per interpretare meglio il mondo in cui viviamo. Ma questo futuro in realtà è già oggi, l'abbiamo visto prima in alcuni talk, lo vediamo noi quotidianamente, questi sono progetti reali, in realtà attività che noi abbiamo condotto già e che quindi vediamo quotidianamente. E questo poi è solo un piccolo esempio delle possibilità che l'intelligenza artificiale può fornire. Abbiamo fatto l'esempio dei dispositivi connessi, ma possiamo immaginare innumerevoli altre potenzialità. Possiamo immaginarci dei gemelli digitali che ci facciano capire meglio i processi dei bioreattori, delle macchine, il funzionamento delle macchine. Ci possono aiutare anche a costruire macchine migliori. Possiamo pensare all'intelligenza artificiale generativa che ci aiuti nel design di nuovi componenti che ci servono nel mondo del care o anche a parti di macchine. Possiamo pensare a nuovi prodotti, nuovi servizi anche più intelligenti. Possiamo pensare all'automatizzazione di quelli che sono dei task ripetitivi, noiosi, che ci fanno perdere tempo e ci distolgono da quelle che sono le funzioni fondamentali. Quello che noi potremmo fare con maggior valore aggiunto, potremmo aggiungere veramente valore e non semplicemente perdere tempo. Questo è il futuro dell'intelligenza artificiale, ma questo è qualcosa che c'è già oggi. Quindi diciamo che per non perdere le opportunità che sono fornite, le opportunità di questa rivoluzione, perché è una vera e propria rivoluzione che noi vediamo ogni giorno, non dobbiamo pensare all'intelligenza artificiale come qualcosa di staccato, qualcosa di totalmente diverso da noi. Dobbiamo pensare invece a come coniugare insieme le possibilità dell'intelligenza umana con l'intelligenza artificiale, in quella che abbiamo definito questa intelligenza ibrida. Solo così saremo in grado di cogliere veramente tutte le opportunità che ci sono offerte. Grazie.